Ciao a tutti ragazzi, io sono Arturino e ritornati a questo nuovo episodio della mia famiglia. Sì, allora ragazzi, io sono uscito da quella caverna e ho trovato quattro diamanti, incredibile. Ci sono stati tipo quattro ore per quattro diamanti, una roba incredibile, un'ora per un diamante. Allora ragazzi, come sempre iscrivetevi a questo canale perché se arriviamo a 100 iscritti faccio il Facebook e il Reveal e comincio a pubblicare video sul mio altro canale che si chiama Arturino e Grino Reaction, quindi seguitemi, ho trovato anche una lava, ma non è un pozzo, cioè non è un lago, come si dice, non è una piscina di lava. Quindi fa schifo al... aliballi. Ma dov'era il cinema? Là c'è stato qui. Siamo stati diventando notte, no! La notte fa schifo, fa molto schifo. Allora, corrimmo qui, ecco, le mie mura. Allora, noi le dovremmo finire queste mura. Che fate, lo stanno? Lo stanno! Allora... Se le trovo, almeno vi faccio vedere. C'è una cosa, c'è uno scheletro. Gli scheletri, oh! Ecco questo. Questo muro lo dobbiamo finire. Così il villaggio sarà protetto. Osspo, mostri. Attaccato. Acciso. Allora, ragazzi... Ho trovato i diamanti. Oggi dovremmo finire anche le mura. No, no, no. No, no. Fatto. Allora, ragazzi... Si è fermato, ho spaccato la casa. Mamma mia, che cosa è che si ferma la casa? Allora... Basta, mostri! L'avete rotto. L'avete rotto. No, no. Corri, corre! La... Uè? Questa è la disinfestazione dei ragni d'oro. Alza, vittà. Vai d'oro. Ecco adesso. Devo mangiare... Corri, sono un po' di... No! Mmm, basta i creeper! Mi ha rotto creeper! Mi ha rotto. Basta sti creeper. Non si è mai perso i diamanti. No, ce li ho davanti. Ok, non ho fatto bene che ce li ho. Allora, qui sono le mie montagne russe. Se non avete visto il video delle montagne russe, andatelo a vedere ora. Ora. Se non andate a vedere ora, piango. Piango. Se lo vedete dopo, piango. Ora, proprio, ora. Cioè, finito questo video, andatevi a recuperare tutti i video miei. Dalla mia vanilla. Perché sono un po' belli. Ho detto la spazzatura, tipo questo. O i fiori, come mi servono. I tappetini, no. Forse mi servono. Dopo. Cioè, voglio fare tipo l'entrata nel villaggio, un'altra figlia, un'altra... D'angsta. Con i tappeti rossi. Ma se domani non usciranno video, perché devo andare al complanno di una mia amica. Dicono chiaro. Quindi domani non... Cioè, usciranno pochi video. Ecco qua. Cioè, se la mia fidanzata vede sto video... E sente sta roba, mi uccide, pensavo... Ma chi è lei? Madonna. Allora, se... Stai portando questo video... Ehm... Cioè, è chiaro. Cioè, c'eri anche te, amico. Boh, mi ricordo che ero matrimonio. Poi non lo so. Che non mi intrometto. Ma stai fiori! Mi ti è rotto! Oh! Non cazzo. È un città... Ancora prende il suo regalo. Perché? Non lo so. Ho solo per regalo farm. Ci ho fatto un profumo a caso. Non scherzo. Basta un zombie! Basta, mi ti è rotto! Pudostati. Cioè, forse c'è una caverna qui sotto che non ci vado. Perché muoio. Cioè, 300 muoio. Allora, stavo parlando che... Che se stai guardando il... Il video finanzata... Ma... Cioè, non ti ingelosire. Ok. C'è dunque ricostruirmi la casa. Che creeper che sono... Che 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 fanno... C'è io ho credito tante parolacce con questi creeper. Però non le posso dire mannaggia. Oh, mannaggia mannaggia. Oh, oh, mannaggia. Allora... Cioè, io mi faccio subito un piccone di diamante. Però prima o no. Non so come fare le scale. Scale. Buone le scale. Le scale. Tiene due qui o... Poi... Altra expandiamo la casa. Eh... Che si è rogaduto? Ma cosa è successo? Ciao ragazzi. Ecco, mi sono ritornato perché... Non c'è il coso qua. Mori, cazzo. Madonna. C'è il coso qua. Spandiamo. Facciamo costruire le doppie un'ora della... Questa cosa. Facciamo, ok, ok. Ok, vogliamo prendere un altro legno. Prima è successo un casino. Cioè, mi si è baggato Minecraft. Madonna. Cioè, sono uscito da Minecraft, posso essere rientrato nel MoFuture. Non so perché... Mi crasha... A caso. C'è un problema di Minecraft. Lo se è quanto quanto ci Mi è successo il RWDOS sei morte. Non sono se... Non mi sorta l'aveva rispetto. Però mi fa p этим erroare. Voi lo potete immaginare il romano. a proposito di vincere un grosso bravo come io cioè io dico che non dovete seguire ha fatto un video in 12 giorni in 12 giorni ho già fatto 24 video ma lui solo uno cioè perché mi dice non gli fa caricare i video io non ci credo è solo che si scoccia di fare i video di caricare e di tagliare che voglio bene facendo sì che abbiamo fatto questa parte oltre posso cioè sono i ragni che posso scalare le mura però i ragni sono scarsi quindi sb c'è ragazzi uno porto sono andato al urgen al urgen esplomato c'è il urgen un jumpscare sempre sempre un jumpscare c'è il peggio di finance tredis peggio se ho fatto dei video su finance tredis se non li avete visti andateli a vedere cioè il mio primo video era su finance tredis quindi adesso a recuperare come gli altri video che non avete visto andate a recuperare ok 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 io penso di aver fatto l'ombra andiamo a casa e io vi saluterei perchè non voglio che mi crasha di nuovo ma vi saluto ciao